Signori, incredibile, siamo tornati dopo buu mesi su Clash Royale, ci eravamo lasciati con il box opening che vi lascio nelle schede Ebbene sì, ci siamo ritrovati 2.600.000 di oro dopo tutto quel casino che c'è stato con l'oro Ebbene sì, non l'ho aperto, cioè ho giocato veramente pochissimo Intanto vi ricordo subito di entrare nel clan Burlo Family, siamo quasi vicinissimi alla top Italia Vi bastano 6.000 coppe per entrare, tra l'altro c'è sempre gente che entra ed esce, quindi entra se ancora non ne fai parte Ebbene sì, oggi andiamo a buttare un po' di oro perché ne abbiamo decisamente troppo Ma prima ce ne andiamo ad aprire questo, dacci qualcosa di buono per favore, grazie Oh, pescatore, perfetto, iniziamo veramente bene Intanto vi ricordo subito di lasciare un bel like al video, iscriviti al canale e lasciami un commento perché sì Se volete il continuo della serie di Clash Royale Ebbene sì, oggi cerchiamo di potenziare un po' le carte che ci servono Tipo il boia, 100.000 di oro, anche se non ci serve, noi lo potenziamo Mi ha dato dei giochi al litro, non ho capito perché Anche il gigante elettrico, visto che è una carta che usiamo molto Eh sì, vabbè, stiamo facendo cavolate, però visto che abbiamo tanto oro Dobbiamo pur buttarlo, no? Il cavaliere lo voglio potenziare e già se ne sono andate 300.000 di oro Adesso ragioniamo un attimo su che cosa utilizzare Tipo carte che effettivamente ci interessano, la strega può tornare sempre utile Ce la facciamo a livello 12 Vorrei buttare almeno un milione e qualcosa di monete Dai, anche questo, il principe nero ci può essere utile a livello 11 E il mega sgherro ce l'ho bassissimo Facciamolo minimo all'11 Almeno cerchiamo di portare un po' di carte all'11 Perché effettivamente è il livello base Macchina volante, portiamola all'11 Il principe, perché no, portiamo all'11 Minatore, che fatene privi di non... Che fa, non porti il minatore all'11 I maiali che fa, non li porti Eh, per forza li devi portare Cavaliere, che fatene privi? Eh, vabbè, inizia a potenziare le carte anche al 12, va? Perché così, se no, l'oro non se ne va più via Potenziamo il principe nero Mega sgherro al 12, che fatene privi Principe al 12 Potenziamo anche i campioni, che sono... Boh, non lo so se sono utili Boh, monaco Cavaliere d'oro Il gigante, gigante con la strega che fanno la potenzia Va benissimo, livello 48 Per questo sto facendo un attimo il calcolo su le cose che mi servono e che non mi servono Gabbia per goblin, vai Cerchiamo di portare le carte che ci servono al minimo... Almeno all'11 Vai, gabbia per goblin Veleno, che fatene privi Bocciatore Mortaio Sopra anche le leggendare, va? Legendare che ci servono Quindi stregone di ghiaccio Che poi io non vorrei dire a proposito di leggendare Ho 29 jolly, eh Non so se errendo Però li vorrei utilizzare tutti per un potenziamento Che ho da fare appunto in questo deck Nel deck pack Nel deck delle war Anzi potenziamo un po' di deck per le war Pipistrelli al 12 Tornado Ce la facciamo all'11 Perfetto Qua non abbiamo nulla da potenziare Ci potenziamo le frecce al 12 Snow palla Non ne vale la pena Però facciamola La furia no Perfetto Andiamo di gigante Così togliamo un po' di monete Principe nero Al 13 Non male Cucciolo di drago Facciamocelo al 13 Il draghetto Dai che non fa mai male Il golem Non possiamo non farlo a livello 12 E anche a livello 13 Ma si Poi Maialini Dai Forse riusciamo anche al 13 No per poco E' il boscaiolo La potenziare Per forza Bocciatore Vamos Livello 12 Cacciatore Facciamoci anche il mortaio Parapapam Alla fine non riusciamo a potenziare tutto Però almeno Un po' di carte ce le portiamo sopra Perché Ci sono alcune carte che sono veramente bassissime Non so perché sto potenziando Le reclute Penso una carta che non ho mai usato Gli arcieri Dai facciamoceli un po' sopra Cercare di portare almeno queste carte basse Almeno al 10 11 Spaccamuro Bombarolo Si sono buoni Si sono buoni mascalzoni Dai Fornace Sempre utile Portiamoci Questo un po' sopra Che Ci sta Livello 49 Bene Due livelli abbiamo fatto in questo video Perfetto Allora siamo un milione Letteralmente un milione di oro Io direi di conservarmelo Cioè le cose principali le abbiamo fatte Quindi Quindi ci può stare Perfetto Abbiamo consumato Un milione Seicento Di oro Ragazzi Ve l'ho detto che non ho giocato Cerchiamo di arrivare Sfidante 2 Proviamoci Vamos Da troppo tempo Che non gioco a clash Quindi sono un po' Un po' fuori Un po' fuori forma Poi Inizia la scuola e tutto Quindi Quindi ci può anche stare Allora stregone Più che altro c'è E' noioso Perché Non so voi Io quando mi guardo i video su youtube Oh cavolo Me li metto in per due E quindi il gioco sembra molto più veloce Invece adesso che ci sto giocando Mi sembra tutto così lento Infatti vi vorrei tagliare qualche parte Noiosa Tipo Dove Cioè Carico l'elisire Però Viene anche difficile la tagliare Più che altro Una partita è giusto A vederla intera Eh Questo ci sta Magari dovrei velocizzare il video Ma poi Sentite così Sentite una cosa Velocizzate voi il video Che è meglio Adesso Io Per difendere lui O spero che non ha la zap O è finita Mettiamo la valchiria Quello lì non hitta Potevo anche non mettere la valchiria Potevo aspettare Quindi quello che vi consiglio Per il video di clash real E mettere il video in per due Sennò veramente E' noioso per me giocare Vabbè che Non è che mi sta più divertendo Come prima clash Però Cioè Allora Reclute Qua Qua ci dobbiamo prendere danni Ragazzi Ci prendiamo un po' di danni Pazienza Ma poca roba Proviamo a hittare Tanto lì Mille Di danno L'abbiamo fatto Ok Lì la torre è quasi andata giù Perfetto Praticamente è andata giù Allora Cioè in lega 1 Presumo Che ci sia gente Un po' scarso Allora Buttiamo giù questa torre Perfetto Cioè lui c'ha Gigante royale Gran cavaliere Vabbè Andava di moda 4 anni fa Questo combo Ma Va bene lo stesso Cioè tipo questi momenti qua Cioè Eeeh Che vi devo dire Che vi devo raccontare Oddio ragazzi Ha messo la veleno Nooo Cioè Ci sono dei momenti vuoti Su questo gioco Orca Mamma mia Quanto è forte quello Eeeh Quello lì è forte ragazzi Però in teoria Se non difende qua Quella torre Quella torre va giù Perfetto Torre è andata giù Diciamo Player è molto forte Questo Assolutamente Assolutamente si Valkyrie ossia di qua Che difende tutto Questo qui Non sa assolutamente Giocare Tra l'altro ragazzi Io vorrei potenziare La mia prima carta Evoluta Quindi Fatemi sapere Se volete altri Di clash royale Se volete che continuiamo La serie Signori Mancano 10 secondi Eeeh La partita è finita Diamogli una bella emoticon Di bruciare Perfetto Partita vinta Forse Ci ha raddoppiato I punti Per andare più velocemente In lega 2 Vediamo Più 2 No Non siamo arrivati Oh Baule gigante Per noi No No grazie No Ne siamo arrivati In ispirante 2 Che schifo Signori fatemi sapere Se volete altri video Di clash royale Adesso Faremo altri potenziamenti Abbiamo un milione di oro Un po' di cose Le abbiamo potenziate Abbiamo fatto due livelli Apriremo poi i baule Le cose Ci faremo le carte Campioni Pass Usciranno cose Ho visto una carta Di 10 lisir Troppe cose Troppe cose Stanno succedendo Troppe cose Fatemi sapere se volete Che ritorni attivo Su questo gioco Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao